Il mio nome è Manuel Pieri e sono il direttore dell'azienda. La vendemmia non è altro che un po' il frutto di un lavoro molto lungo che tutti noi speriamo che sia sempre il meglio o il più proficuo sotto il livello qualitativo. Questo mestiere porta in sé conoscenza, cercare di conoscere al meglio il nostro territorio, quindi i nostri vigneti, interpretarli, dare anima alle uve attraverso i vini, ma poi fondamentalmente la cosa più bella è il rapporto tra le persone, quindi la fiducia, il rispetto, anche la forza che attraverso l'unione di persone si riesce un po' a superare tutte quelle situazioni che si possono venire a creare quotidianamente all'interno di un'azienda. La natura è molto più forte di noi ma insieme con la conoscenza agronomica ed enologica si possono ottenere dei prodotti ottimi.